Ehi, venite a vedere che roba! Berlino, Strauba è tornato a casa. Quelle là erano le forze armate russe. Pare che vogliano radere la città al suono. Beh, non sanno in cosa si stanno cacciando. Siamo da qualche parte nel centro di Berlino. Dobbiamo salire in superficie per orientarci. Grazie a tutti. dobbiamo salire fino alle strade per orientarci e metterci in salvo dobbiamo salire in strada conosco questa città posso trovare una via un'arata e funziona un co è una radio a corto raggio l'armata rossa è la nostra unica speranza ma ci serve la frequenza giusta dobbiamo trovare la frequenza una volta questa era un posto felice iscriviti al nostro canale Grazie a tutti Grazie a tutti Questa chiesa, cosa è successo qui? Sembra una frequenza radio Questa è questo? Questa è successo qui? Questa è successo qui? Sì? Pronto? Siete... americani? Inglesi? Io... io sono Michael Come avete... Io... non ci serve il vostro aiuto Dovete abbassare il terreno che sono più grande assopra la città E non vedo riesco a capire da... Brutto periodo per organizzare mostri Ricevuto! Dobbiamo trovare il modo di attirare il dirigibile verso di noi Forse ci sono dei bengala nelle casse di scoglio Questa attirerà la loro attenzione. Quanto pare hanno accettato il nostro invito. Ancora, strauba in mente qualcosa. Tutti pronti? Ancora, strauba in mente. Ancora, strauba in mente. L'energia che attraversa i cavi sta sovraccaricando lo Zeppelin. Bene così! Ehi, sono qui! Ehi, la! Che qualcuno mi sente? Sono bloccato nelle fogne. Ma vedo una piccola luce. Sei tu? Prendi! Prendi! Non c'è! Noi, noi, noi. le ancore sono dispositivi di aggancio sono la nostra unica speranza per abbattere lo zette un po' Le ancore sono dispositivi di aggancio. Sono la nostra unica speranza per abbattere lo zeppelin. Adesso non mi prendono più. 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 da quanti. non mi prendono più. 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 no. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.